Sono nuovi i dipendenti di Banche Trughe e indagati per truffa dopo le denunce presentate da alcuni clienti dell'Istituto nella vicenda delle obbligazioni andate in fumo dopo il decreto salva banche. Tra di esse ci sono anche tre direttori, uno che lavorava nella filiale di Chiusi della Verna e due in servizio negli sportelli della città di Arezzo. Il legale della First CISL, che assiste gli indagati, ha incontrato il procuratore russi, il quale ha manifestato ampia disponibilità di fronte alla volontà di collaborare espressa dai dipendenti coinvolti. Nei prossimi giorni verrà depositata una memoria con allegata documentazione che secondo l'avvocato D'Angelo dimostra la correttezza dei suoi assistiti. All'interno della memoria gli indagati chiederanno di essere interrogati. Ci sono documenti che lo comprovano, non solo rispetto alle fatti specie che riguardano i singoli investitori, ma anche rispetto al tipo di comportamento che hanno adottato tutti i miei assistiti. Ora stiamo predisponendo proprio una memoria che consegneremo in procura entro i 20 giorni in cui allegheremo tutte le circolari e tutte le indicazioni che venivano fornite, tali da poter escludere qualsiasi responsabilità per i dipendenti. Lei chiederà che i suoi assistiti vengano interrogati? Sì, assolutamente sì. Vengono sottoposti ad interrogatori per chiarire ancora meglio e in maniera ancora più ampia la propria posizione che si aggiunge questa linea difensiva anche alle memorie che stiamo depositando, che depositeremo nei prossimi giorni. Non siamo stati ad oggi nelle condizioni di poter rappresentare tutta una serie di circostanze che documenteremo, per cui evidentemente le indagini della procura sono state fatte su una serie di indicazioni che hanno avuto loro e di documenti evidentemente parziali, così come dimostreremo da qui a brevissimo. Tutto il discorso delle denunce, eccetera, sicuramente potrebbe compromettere anche la volontà di qualcuno di acquistarla e di conseguenza sicuramente i dipendenti sono preoccupati. hanno vissuto dei mesi tremendi, non solamente gli ultimi dal 22 di novembre che sono stati veramente tremendi perché hanno ricevuto proiettili nelle buste, bombe, minacce a livello personale su Facebook piuttosto che di persona. Qualcuno mi ha confessato di non essere andati alla messa di Natale e alla messa di Pasqua per non ricevere accuse magari presentandosi in pubblico. Molti mi dicono di aver cambiato il supermercato dove vanno a fare la spesa. È una cosa inaudita perché questi sono dipendenti, lavoratori dipendenti e hanno un'unica colpa, se può essere considerata una colpa, essere dipendenti di Banca Etruria, perché qui bisogna decidere questo. Questi sono dipendenti di Banca Etruria, la loro unica colpa è di aver fatto il loro lavoro.